Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video Io sono Osto2.0 e oggi siamo tornati su Roblox Perché in questo video, da come avete letto dal titolo ovviamente O forse anche visto la miniatura Ci andiamo a comprare la Lamborghini Sì, adesso facciamo gli ultimi 2.000 E c'è proprio una roba bomba Adesso facciamoci gli ultimi 2.000 soldi Ci andiamo a comprare proprio così, diretti, ok Ok, eccoci qua Adesso andiamo subito a prendercela Poi qua, magari un po' dopo migliorerò Eccola qua Lamborghini Huracan Molto bello Di dietro Bello Chi è questo? È venuto a visitare Perché la gente viene tutta da me a visitare Ok, andiamo subito fuori Voglio solo leggere Le modifiche e quanto costano Vediamo un po' Dov'è? No, troppo in giù Eccola qua 82.000 per farla salire a livello 2 Mamma mia Ma mi dice anche degli altri? Ah no O devo averla? Sì, devo averla Mamma, volevo vedere Quanto costavano quelle lì Ok Andiamo subito a eccoci Appaggiarla Quella qua Vabbè Il nostro colore è proprio Vediamo Arancione Carina No, è questo qui non proprio Facciamo arancione Questo qui vuole fare un giro Vabbè Vola? Cosa fa? Vola Vola Vabbè Ok Ragazzi Adesso Mamma mia Che velocità Aiuto Stavo schiantando Produco anche abbastanza soldi Vabbè Ok Velocissimo Ma questo qui è ancora Sulla macchina No Meno male Ok Che carino Che è abbastanza veloce Dai Vabbè Ovviamente Nella realtà Non è così lento Vabbè Questo gioco Non è che Anche lui C'è una mappa Gigantesca Però dai Sì Abbastanza veloce Poi la prossima Costa Un milione Cioè Un casino Non ci arriverò mai Ok Adesso Facciamoci qualche Giretto Andiamo dal nostro Solito amico Burger King Miam 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 Cioè È come se al McDonald's Mettono un quadro Con la Coca Cola Ma che senso ha Scusate Qua non ha Per fortuna Qua non c'è niente Vabbè Andiamo a vedere Negli alti posti Quanto costano le auto Magari A posto di comprare Quella lì Da un milione Che ci metterei Tipo due anni Magari Ne compiamo Piuma uno Qua nei paraggi Se troviamo Un altro Tipo questo Vabbè Qua non ha pezzi Ancora peggio Vabbè Magari qua dentro Vabbè No Ho cambiato idea Qua costano troppo Andiamo in un altro Quello lì Tra due anni Le potrò comprare Ok Non mi ricordo Dove era Eccolo Vediamo Con un po' I costi Eh sì Allora Fa posto C'era Meno di tutti 500.000 C'è Anche questo Una Molgheria Ventador Però C'è Scusa Ma Vabbè Costi Un po' Esagerati Secondo me Voi Voi Pensatela Come volete C'è Vedo Che le Lamborghini Costano Tanto Però In questo Gioco Puoi farle Anche Non tanto Veloci Vediamo Cosso Vediamo Cosa Si può Prendere Ah no L'altro 500.000 Scusate Cioè Io ho pagato 11.000 Per sta roba Qui Cioè Nel gioco Ho fatto Eh Vabbè Un pezzo Peggio Dell'altro Bene Una pianta 4.000 Vabbè Che cosa fa C'è Il vaso Di oro Cioè Ragazzi Mi sa Che questa serie Si può Concludere Qua Perché C'è Questo Gioco Qui Ormai Per Completarlo Tutto Cioè Arrivare Fino A Un Milione Cioè Fare Prima 500.000 Poi Fare Un Milione Poi Fare Tutte Queste Robe Qui Vabbè Magari Nel prossimo Video Faccio Un Po Di Soldi E Completiamo Anche Tutti Questi Pezzi Qui E Così Magari Poi Potrò Fare La serie Di Un Altro Gioco Magari Magari Nei Commenti Scrivetemi Quale Gioco Vorrete Vedere Nei Prossimi Video E Per Questo Video Può Essere Tutto Un Po Cortino Perché Non Ci Sono Tante Cose Ormai Da Fare In Questo Gioco E Non C'ho La mia Stessa Faccia Non Si Nota Perché Non C'ho La Bocca Coperta Vabbè Per Questo Video Può Essere Tutto Ci Becchiamo Domani Con Un Prossimo Video E Ciao Tutti Ciao Top